La scuola saliviana è un tempo, è un luogo per scoprire e coltivare il senso della vita, trovare fiuge in sé, accendere uno sguardo positivo sugli altri e sulla realtà, ringraziare e imparare a gioire. La scuola salesiana si dispone a cogliere le sfide della complessità e a rispondervi mettendo in campo i cardini del sistema preventivo, la spiritualità, la ragionevolezza e la benevolenza. La scuola salesiana mette al cuore di ogni azione educativa il progetto di vita di ciascun alunno. L'insegnante è il regista dell'azione educativa, in condivisione con l'intera comunità educante. La scuola salesiana educa a vivere le situazioni quotidiane e le reazioni con le età in stile di servizio e di rispetto. L'ambiente educativo è occasione di incontro, che si incarna del bisogno di esperienze live. La scuola salesiana affronta da sempre le situazioni con l'intento di un apprendimento dinamico, olistico e situato, con la consapevolezza che occorre affrontare le domande degli studenti e ascoltare le loro esigenze, cogliendovi opportunità e sfide. La scuola salesiana desidera formare cittadini attivi e responsabili e si presenta come un cantiere aperto e laboratorio di relazioni per tessere legami significativi sul territorio dove opera, per offrire il proprio contributo alla civiltà dell'amore. Grazie. Grazie. Grazie.